si porta a spasso due o tre avversari poi scarico per Radulovic da tre...Nicola! Radulovic! Goldweir, parla poi recuperata da Gersetti dopo l'errore di Goldweir, scarbio poi con Scansi, rimasto solo, Thomas Sellara completamente scordato, sembra essersi risvegliato dal torpore iniziale, qui è in preda un Raptus, poi c'è Levin, il capitano, la firma del capitano! Gersetti contro Thomas, bella la soppata di Thomas, ha detto da qui non si passa, qui c'è di dietro di transito, Levin per Brescia invece, sono Scansi, Rezzano, Marigny in, tap in solitario, realizza, ma Levin palla per Marigny, si butta dentro Marigny, marcato stretto da Scansi, realizza Marigny, realizza Marigny, sfortunato, più 15 scafati Guglie, finta a superare Thompson, bene Guglie, bene Guglie, bene Guglie, già in doppia cifra, palla per Marigny, prende la mira Marigny, sbaglia, recupera quello Thomas, scarico per Paul, Leicester, Marigny, più 21 scafati tutti in piedi per lo scafati, cantano in oltre, il palazzetto risponde, va Rombaldoni, realizza, Gersetti, quasi intercetto di Rosignoli su Busma, sbaglia Busma, no, realizza Busciati per Thompson, qua si recupera la palla, Marigny, altri due punti per Brescia, più 15 scafati, attenzione, recupera scafati poi con Sorrentino, scarico per Marigny, si butta dentro Marigny, fuori per Casini, prende la mira, Juan Marcos, Juan Marcos, Casini, terza bomba di giornata per Casini Grazie